Il cocco nato, il cocco wine, una grande manifestazione sempre all'insieme del vino e della convivialità. Anche qui, in questa circostanza, questi paesi stanno dimostrando una grande capacità e una grande vitalità. Complimenti. E adesso procediamo. Camminando lungo il percorso abbiamo incontrato delle persone di qualità importanti per questo paese, cominciando da Roberto Bava, delle famosissime cantine Bava, e poi il sindaco Umberto Fasoglio, il giovane sindaco che sta dando un ulteriore impulso a questo bel paese, con la sua vice sindaco Monica Amarello, che era prima sindaco appunto, e poi con altre persone dell'intorno, sindaci come Antonello Murgia, Di Piova Massaia, Cristiano Massaia, il patron di Monferrato On Stage. E ora un bel grande brindisi per onorare queste stupende produzioni di vini. Sono con l'inventore, il creatore di un cocco wine, con alcuni amici, e con questo giovane sindaco che mi pare che sia veramente brillante e pienamente addesivo. Anzi, io sai che ho sempre avuto questa idea di vini sui paesi, e qui si capisce che i vini, i vini, i paesi, il comune e il capoluogo possono veramente fare una forza, l'anghimo operatore. Esatto, adesso c'è una fiella unica, il sindaco anche prima salutando, ha parlato di fare sistema, di ragionare con i comuni, anche dei giovani che si impegnano. Comunque complimenti. Grazie Giorgio, grazie. Grazie.